Mi ha dato uno strumento nuovo che è una sorta di asta a cui appendere un telefonino E poi mi spettacolo, io non sei qui Se mi casca il telefonino da qua sopra C'è la pizza C'è l'audioviso il contrario E' spettacolare questo Guarda ci può fare una panoramica Ma prende il tavolo Aspetta che c'è il riflesso della luce sulla testa di Claudio Vizio Spettacolo La fogore La fogore splende su di te Vediamo se è ballato questo video Che bellissimo Grente ti ringrazio per questo regalo che vi hai fatto Me l'ha regalato Sì sì